I video rappresentano le due principali fonti di prova che testimonierebbero in maniera inequivocabile il maltrattamento dei piccoli alunni di una scuola materna. Schiaffi, scossoni, pedate, trascinamenti lungo il pavimento e torture psicologiche. Tutto questo accompagnato da urla e minacce. E' quanto si legge nel capo di imputazione nei confronti delle due signore, che preferiamo non identificare come insegnanti. Dopo l'arresto, una delle due sarebbe stata vittima di minacce e insulti nei pressi della propria abitazione. Complessivamente, gli episodi raccolti dai carabinieri sarebbero 37, e cioè due al giorno o giù di lì. Una pratica quotidiana che si svolgeva in un quadro di terrore davanti a bambini totalmente impauriti. Arrestate il 12 maggio scorso, le due donne si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Assistite dagli avvocati Amalia Montesano e Giuseppe Buquicchio, sono agli arresti domiciliari con l'accusa di aver maltrattato i piccoli alunni, con schiaffi, colpi sferrati su tutto il corpo, strattonamenti, pedate, calci, forti scossoni sugli arti superiori, trascinamenti lungo il pavimento e colpi dietro la nuca. I legali si sono però riservati dopo aver avuto accesso agli atti e visionato i filmati di depositare una memoria difensiva.